E' stato presentato a Palazzo Lascaris il libro di Marco Piccat, Donne piemontesi e corti d'amore, una raccolta di liriche dell'antica Provenza. L'autore ha raccolto nel volume le più significative composizioni scritte dai trovatori, accolti presso i marchesi di Monferrato, i conti di Savoia e i marchesi di Saluzzo, per le dame di origine piemontese. Nei percorsi in Piemonte i provenzali portarono il proprio repertorio classico, sentimentale, polemico, cortese e ironico, rivisitandolo alla luce di una diversa situazione politica e di una nuova stagione culturale. Il libro Donne piemontesi e corti d'amore è un'antologia che raccoglie le poesie scritte dai poeti trovatori che erano ospitati nelle corti piemontesi alle dame che vivevano quelle corti. E' un modo per dimostrare come la donna nel Medioevo avesse un ruolo non solo di immagine di terra ma anche di cultura e di capace di proposte culturali.